I sali assorbiti nella muratura porosa a causa dell'umidità hanno capacità distruttive e rappresentano una grande preoccupazione per gli esperti di restauro e di conservazione degli edifici storici. Persino le misure preventive contro l'umidità non riescono a limitare la contaminazione residuo-salina ed i suoi effetti devastanti. Altrettanto inutili si sono rilevati i tentativi di correggere i danni consolidando la superficie, mischiando i sali all'intonaco ai materiali di rivestimento oppure usando degli intonici che tengono in considerazione l'espansione dei sali. Anche la possibilità preferita della rimozione si è rilevata vana. Questo fino ad ora.